Sono Lisa e abbiamo iniziato questo progetto a febbraio e all'inizio abbiamo fatto delle lezioni frontali in cui ci hanno spiegato la storia dell'associazione e come funziona l'oncologia, la prevenzione ai tumori e personalmente io sono molto coinvolta in questo progetto perché ho avuto un caso di tumore in cui mi famiglia e quindi mi sento molto presa perché per me partecipare a questo progetto è come una vendetta personale, una specie di rivincita quindi è appassionante vedere persone che si battono per sconfizzare una cosa del genere e poi partecipare ad eventi così grandi come oggi, comunque vedere appunto così tanta gente che vuole che queste cose non esistano più, è veramente bello e vuole dare un contributo per aiutare le ricerche